Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, il glitch dei soldi da fare da soli, con un metodo di bug ancora più semplice, quindi è proprio facile facile. Allora, per fare il glitch avete bisogno di un veicolo speciale che entra allo Santos Custom, uno qualsiasi, poi vi potete mettere in un edificio, all'entrata di un edificio, dove vicino a un'attività. Questo solo per buggarvi ragazzi, io sono qui all'Eclipse Tower perché mi ha messo in un colpo e quindi sono respawnato all'Eclipse Tower e l'ho fatto qui. E funziona benissimo, che cosa dovete fare? Dovete avviare i colpi Domus Day per due volte sul telefono e aspettare il caricamento ragazzi, il caricamento che sarebbe il popolamento della sala, 2D3, 3D4, insomma questo famoso popolamento. Ragazzi, se non vi arriva, fate come faccio io, ricaricate più volte il telefono, avete visto io, riapro e richiudo il telefono, riapro e richiudo il telefono, per far caricare un nuovo conteggio in maniera tale da poter avere più possibilità di buggarmi. Qui per esempio, mi ha messo nel colpo ragazzi, l'ho lasciato integrale il video, giusto per farvi vedere che anche a me succede che mi mette nel colpo ragazzi, quindi non è che dovete stare lì a disperarvi. Quando vi mette nel colpo, prendete, annullate, uscite come sto facendo io, e una volta che siete usciti, avviate il colpo di destra che avete nell'appartamento e direttamente da lì, come sto facendo io, ripetete il procedimento. Vedete, io ho annullato qui, sono uscito, mi sono teletrasportato in pratica, sono uscito, scendo sotto e vado a ripetere il glitch ragazzi, è semplicissimo. Io l'ho fatto qui all'Eclipse Tower, però potete farlo dove volete, insomma, anche perché qui all'Eclipse Tower c'è l'attività, come vedete, quella gialla all'in fondo, e tutto il resto. Poi non avete bisogno di richiamare il veicolo, perché comunque vi spawnerà direttamente fuori, come è successo a me, quindi possiamo ripartire nel glitch ragazzi. Facciamo due volte colpi domus dei, e aspettiamo questo famoso popolamento, 2 di 4, 3 di 4, quando vedete il countdown, prendete, vi avviate verso il palino azzurro, e poi annullate, correte ovviamente di corsa, avrete un pochino di tempo, quindi state tranquilli. Però, dovete sempre sbrigarvi, non è che dovete mangiare invece l'Ovo di Pasqua, insomma, fanno... all'attività, questo volevo dire. E... una volta che avete fatto il tutto, che vi siete buggati, come avete visto, abbiamo lo stile buggato, entriamo nell'attività, e scusate, entriamo nello Santos Custom, e ripariamo il veicolo, se lo dobbiamo riparare, altrimenti non facciamo nulla, perché non è obbligatorio che facciamo un cambio d'arga, un cambio vernice, non dobbiamo fare nulla, dobbiamo semplicemente entrare nello Santos Custom, e uscire. Ovviamente, se volete, riparate, se no, insomma, lasciate stato. A questo punto, entrate nella Clubhouse, e continuerete a rimanere buggati, ragazzi. Quindi, tranquillissimi. L'unica cosa che dovete fare, è avere la moto da duplicare nella Clubhouse, in questo caso, una Diabolus, che è quella che vale di più. E... vedete, sono ancora buggato. E avere delle faggio da... da rimpiazzare, insomma, con le nostre duplicazioni. A questo punto, salite sulla moto, entrate nel... nell'officina, freccia destra, fate un cambio a luci. Cercate comunque di avere una targa personalizzata, anche sulle Diabolus, ragazzi. Prima che... la modificate da Bennis, la targa c'è. Quindi, cercate di mettere una targa personalizzata, perché anche se non la vedete, comunque la targa c'è su queste moto. Quindi, a questo punto, avremo il nostro clone, ragazzi. Io adesso sono sceso da una, e sono salito sull'altra. Giusto per farvi vedere una cosa. Allora, se voi fate direttamente così, come alcuni fanno, alcune volte, non ci fa il bug, come state vedendo. Quindi, prendete e tornate, ovviamente, dentro. Ma, comunque, non fate in questa maniera, ma fate come vi sto mostrando adesso. Quindi, che cosa dovete fare? Prendete, andate al pallino azzurro, e scambiate la moto che vedete, la Diabolus, la scambiate con una faggio. E poi, prendete la moto, che rimarrà vicino alla... alla faggio. È semplicissimo, ragazzi. Premete la freccia destra, entrate, vi sbatterà fuori automaticamente, e il gioco è fatto, e la duplicazione è avvenuta. Ora, dobbiamo portare fuori questa duplicazione dalla Clubhouse. Quindi, avviamo un colpo di destra. Come sempre, ragazzi. E vi garantisco che continuerete a rimanere buggati, eh. Quindi, avviamo il colpo di destra, e lo annulliamo, scendiamo in strada, e in strada avremo la nostra duplicazione, ragazzi. Qui c'è la duplicazione, continuiamo a essere buggati, andiamo a portare la nostra duplicazione nella Clubhouse, e la andremo a sostituire con una faggio. qui c'è mancato poco. Però qui l'ho preso, ragazzi, l'ho preso proprio in pieno il coglione, in piena curva. Comunque sia, torniamo nella Clubhouse, ci dirà garage pieno, andremo a sostituire con una faggio che abbiamo comprato precedentemente. e la duplicazione è riuscita, ragazzi. Quindi, da qui potremo continuare a duplicare tutte le moto che vogliamo, perché comunque siamo buggati, perché comunque abbiamo ancora il bug attivo, e questo ci permetterà di poter duplicare tutte le volte che vogliamo. Quindi uscite fuori. L'unica cosa che dovete fare è uscire fuori. Vi mettete, diciamo, con l'inquadratura così. chiamate il vostro veicolo, aspettate, perché tanto vi dirà consegna in corso, poi quando si leva consegna in corso, significa che è stato consegnato il veicolo. Quindi, ora è stato consegnato, andate dritti a voi, perché di solito spawna quasi sempre dalla parte opposta. Faccio questo, ragazzi, perché non si vede in mappa, e quindi dovrei stare a cercare dove lo spawna, se lo spawna a destra. Qui si ho cascato come boh, come un sacco di patate, guarda. Che poi questo se l'è piatta pure con me, però vabbè, mori lì e stai buono. Quindi, a questo punto, ragazzi, che altro dirvi? Vi faccio vedere la data e l'ora del glitch in cui ho girato il glitch, in maniera tale che vi rendiate conto che il glitch è funzionante. è perfettamente funzionante, ragazzi, come questo, come quello del del CEO. Che altro aggiungere? Nulla. Un saluto a tutti, al prossimo video. Mio 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 Grazie per la visione!